La missione Rigenera è la frase guida per la Quaresima 2017 della Chiesa di Padova. Ne parliamo con Don Gaetano Borgo, direttore del Centro Missionario di Ocesano. È un'immagine veramente che ci conquista, questo virgulto che spacca la terra, spacca l'asfalto. Un po' sono le storie e i racconti che ci arrivano dal sud del mondo. Potrebbero anche proprio rigenerare il nostro stile di vita, la nostra quotidianità, le nostre relazioni, il nostro modo di stare tra la gente. Penso che possono essere giorni belli, quelli di Quaresima, che vanno a rigenerare tutta la nostra vita, la nostra Chiesa e soprattutto il nostro cuore in cammino, proprio in attesa del risorto.